va beh spara 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 attenzione! ce la possiamo fare se la possiamo fare uuuuuh ce l'abbiamo a vado be 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 be, siamo arrivati l'Arabbi ha vinto e vediamo! questo è record bravo moglie tararararara uuuu, quasi attenzione ma che cosa wow un aplauso alla Raby, ti tocca a me no 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 Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Raby e ma... Ma lì ragno! Ma che cosa sta succedendo? Aspetta, 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 ok, adesso non ce l'ho più, ero diventato un ragno. Che schifo, ma io non voglio fare questo gioco, io non voglio diventare un ragno. Già mi bastano i miei capelli, altrimenti mi divento ragnesco. Così c'è sempre più un ragnetto con i capelli. Allora signor ragno e signori ragni, siete pronti per un video incredibile perché oggi dobbiamo diventare il ragno più incredibile del mondo. Quindi fai signor sì, signor ragno. Signor no, signor ragno, io non diventerò un ragno, hai capito? No, 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 no. Ragazzi mi raccomando, i video degli animali, i video dei ragni specialmente vi piacciono tantissimo. Tranne a me. Super mi piace, iscrivetevi al canale e iniziamo. Oh, Raby, come sai? Allora, questa volta, non sono io, questa volta voglio iniziare con questo gioco. Ecco, non ha idea di come si fa. Anzi no, esatto, non ho idea di come si fa. Allora, in pratica qua dobbiamo potenziare all'inizio il nostro ragno, però non abbiamo i soldi. Anzi, potremmo subito fare il livello del DNA. Vai. Ok, uno. Adesso un DNA abbiamo. Dobbiamo collezionarli perché ovviamente dobbiamo modificare questo ragno, quindi Battles! Oh! Sputa le ragnatele. No, ma che cosa sto sputtando, le ragnatele? Secondo te, Raby l'oro. Bello, ci piace. Allora, qui. Range più uno, dobbiamo distruggere Raby il Pullman. No, 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 no. Ah, ma devi cliccare. Oh, è esploso tutto! No, non bisogna cliccare. Per sputtare le ragnatele? No, non bisogna cliccare. Attenzione. Zero. Mamma mia, cioè, da quanto siamo forti rompiamo, Raby, un Pullman? Con uno sputo di ragnatela possiamo rompere un Pullman, bellissimo. Allora, range più due. Cos'è? No, il ponte che è crollato, aiuto! Crollato tutto. No! No, vabbè, siamo un ragnetto, ci passiamo, dai. Ci passiamo, danno, più uno. Ok. Ok, bam, 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 non lo so. Guarda, laggiù che c'è un ragno enorme! Niente, non ci siamo schiantati. Ci siamo schiantati, due a testa, dai. Va bene, va bene. Ok, allora, un altro DNA. No, poi li unisco io, però. No, è uno io, dai. Ma dai! Ah, perché, guarda, mi sa che questo possiamo metterlo qua. Ah, e aumentiamo, guarda, il range abbiamo aumentato. Oh, che brutto, guarda! No, che schifo! Oh, il ragno con i brufoli. Prova a metterlo lì. Non so di niente. Lo mettiamo qua sopra? Vai, vai, vai. Allora, altro DNA. Vediamo? Lo mettiamo qua. Abbiamo fatto più zampe, hai visto? Aspetta, aspetta, ma fai una cosa. Guarda. Ok, ma io voglio fare questa qua. No, 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 che cosa vuoi fare? Allora, prendiamo questo qui. No, dai, ma no, così ne avevamo due. Ma sto giocando io. Sì! Che brutto il ragno artiglio! Bello. Chi ha detto che devi giocare te? Allora, mettiamolo qui. Ma toccava a me? Guarda, fantastico. Ok, non è male. Ho fatto il ragno con la cresta e gli artigli. Che brutto! È bruttino, sì. Fatto sta che toccava a me, comunque. Però magari è brutto, ma è efficace. È brutto, ma è simpatico. No. No! Ok, range. No, ci sono delle persone innocenti. No, vabbè. Ah! No, li abbiamo mummificati con la rancina che l'ha. Ok, range. Attenzione. Ma sto livello è orribile. Ma sono tantissimi, ragazzi. Sono tantissimi. Attento, vai, prendi i soldini. Ok, i soldini. Sì, ma Rebby, vedi, dobbiamo diventare più forti. Eh, lo so, siamo un po' scarsi. Vabbè, adesso secondo me ce la possiamo fare. Il danno più due va bene, meglio che nulla. Perfetto, vai. Ma ci schiantiamo come prima. No, invece? Due. Al tre. Al tre. Al tre, non male. Adesso tocca a me. Sì, ma dai, ma me l'hai modificato. Io però modifico il tuo, allora. Guarda, guarda. No, no. Oh! Due. Due. Te me l'hai modificato, io adesso modifico il tuo. Vediamo, devi toglierlo. Sì, ma voglio poterlo fare questa cosa. Diventa orribile, Rebby. Oh, il ragnartiglio. Allora facciamo così. Come non ti piace? Al quattro come diventa? Voglio provare così. Al quattro secondo te come diventa? Rebby, ma lo potenzi un sacco così. Esatto. Ok, vediamo. Oh! Il ragno della lava? No, hai visto? Eh, questo è bello. No! Allora, io farei così. Il ragno della lava. Tutto rosso. Questo cambia poco, però dai, va bene. Ok, ma se no se facciamo così, aspetta, eh. Uno, quello lì? No, non mi piace. Mi piaceva più prima. Ma guarda che faccia brutta che ha. Questo lo rimettiamo qui. Ma perché non si sposta più? Perché sai, devi cliccare meglio. Ecco, ecco. Ah, così fa paura, eh. Così fa paura. Ma è diverso da prima. Vai, giochiamo. Che brutto. Allora, il danno. Voglio potenziare il danno. Uh, più 5 di danno, più 6, più 7. Mi danno, eh, attenzione. Allora, qua potrebbe essere un livello super. Potrei fare il record, eh. Potrebbe fare il record dei record. Oh, sto anche sistemando il ponte, guarda. Ah, meno 4, vediamo. No, non ce la facciamo. No, ce la vai, Raby. Il range, il range è importante. Vediamo, più 4, vai. Ma guarda che livello deve venire fuori, oh, assurdo. Sono stata brava, eh. Allora, attenzione, raccogliamo le monetine. No, non ce la faccio, non ce la faccio. Se guardi alla pubblicità, lo vedi, aggiungi una testa. No. Dai, io proverei. No, no, io non. Ah, io dopo nel mio turno. Guarda adesso. Vai. Buono. Buono. A 4. A 4. Buono, buono, buono. Record, record. Guarda che adesso possiamo... Uh. No, adesso lo potenziamo troppo. Adesso lo potenziamo tantissimo. Vediamo, 1, 1, 1, vediamo quanto cambia il ragno. Allora, 2, 2, 2, 2. Che schifo, Raby, ma stiamo involvendo il ragno schifoso. 3, 4, vediamo se ci accogliamo. No, vabbè. Il 3 ce l'hai lassù, eh. Allora, io direi di provare a fare così. Crei un 5. Sì. Vediamo. Oh, ok, non è cambiato tanto. Allora, però possiamo cambiare di posizione. Vediamo. Cosa... Oh! Eh, no! No, ma questo come si chiamano? I minerali. I minerali. È il ragno dei minerali. Mettiamo qua. No, qua c'è aggiunto il risultato. L'1 è brutto, l'1. Così? Mamma mia che brutto sto ragno, Raby. Fantastico, giochiamo. Battaglia. Danno, danno. Fire rate è meglio. Eh, lo so, ma era almeno 1. Eh, ma te andava a più 2 almeno. Eh, vabbè, eh, ho sbagliato. Range. Range, vai. Range rover, ok. Guarda quant'è. Guarda, è gigante questo ragno. Fa impressione. E poi se arriviamo alla fine e sblocchiamo quel nuovo ragno, eh. Range, range. Range, range, range. Fire rate, fire rate, fire rate. Fire rate. Prendilo! Eh, più 1, vabbè, dai. Vabbè, più 1, meglio che niente. Tensione. Fire rate. No, ma perché si fa... Hai due teste. Raby, hai due teste. Hai due teste. Guarda, stiamo andando in posto. No, vabbè, è legale, è legale sta roba. Tensione. Ma che cosa? Tensione. Wow. Un'altra cosa, la Raby, mi tocca a me. No, 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 no. Prima lo faccio. Prima lo faccio. No, te me l'hai potenziato prima. Dai. Potete potenziare. Ah, allora. Me l'hai potenziato. Aspetta. Devo potenziarlo. Devo potenziarlo, un secondo. Allora, se non me lo fai potenziare, un ragno ti entrerà nel naso stanotte. Fermo, fermo. Devo potenziarlo. Sì, comunque, ragazzi. Va bene, lo so che ho tre volte. No, no, dopo. Dopo questa offesa. Guarda, guarda. Ok, fine, dai. Basta. Tocca a me. Basta. Non c'è? Se io vado via. Raby, c'hai un ragno sopra la testa. Wow. Wow. Aspetta, fermo. Non è cambiato assolutamente nulla, però va bene. Dammi, hai spregato tutto. Perché arriva solo fino a quel livello. Posso giocare? No, devo finire di poter... Basta. Vabbè, dai, va bene. Non è cambiato nulla. Il ragno fuoco. Ma cosa hai combinato che non è cambiato nulla? Ma non è sì che è cambiato. Ma non è cambiato niente. Ma cosa stai dicendo? Toglietemi dai piedi, prego. Range, range, range. No, no, no. Meno uno, Molly. No, meno uno. Allora. Ma io che livelli devo fare? Dai, ma che è sta roba? Volevi giocare a tutti i costi. Io te l'avevo detto che era meglio se mi avessi fatto giocare, però... Sì, ma tanto gioco tre volte, quindi... Non è vero? Sì, sì, te l'ho detto. Ma no, te l'ho detto che gioco tre volte. No! Giochi due volte. No, perché... Vai, range! Più due. Damage. Vai. Anche se devo fare range. Ok. E damage. Vai! Ok. Tem, hai potenziato il mio di ragno, quindi dopo io potenzio... Hai capito bene? No, no. Io dopo potenzio il tuo ragno. No, 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 no. Cosa? No! Dai, che dobbiamo arrivare là giù al ragno gigante. Sì, ma non ci arriveremo mai. Ok, adesso potenziamo. Vediamo. Basta. Un po'. Due, due. Poi tre. Poi potenzio il quattro. Con il cinque come diventa? Ma il sei non cambia nulla. Ma che senso ha? Ah, perché è massimo al cinque, lì, vedi? Eh, dall'uno al cinque, infatti. Dall'uno al cinque. Qui dall'uno al sette. Poi al sei se lo metto qua. Ah, no, dal quattro qua. Sì, quindi siamo quasi al massimo. Siamo quasi al massimo. Anche perché è bruttissimo. Se non è che è un bel ragno. Vabbè, hai visto? Dopo magari avremo un ragno a due teste. Ma prendi qualcosa! Cosa stai facendo? Ehi, range! Ma eri nel mezzo! Ma calma, ti mamma mia! Allora, danno, eh. Mi raccomando, è importantissimo. Vai! Ah, no, ok, sono messo bene. Allora, ci siamo fortissimi. Siamo molto forti. Attenzione, bam! Cioè, spacchiamo la macchina in un secondo. Con una ragnatella e basta. Con una ragnatella, range. Dai, dai, altre disti cosi che devo arrivare fino alla fine, eh. Vai, 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 sì! Oh, Reby, mi sa che non siamo stati mai così forti, eh. Dici? Due teste! Due teste. Oh, io dico solo questo. Vai, vai, raccogli, raccogli. Non siamo mai stati così forti, eh. Vai! Fire rate, serve più fire rate. Fire rate, fire rate! Oh, mio Dio. Mamma mia. Dai, stai nel mezzo, eh. Beccane una. Li becco, li becco, li becco, li becco, li becco. Vai, vai. Prendi. Li becco, li becco, li becco, li becco, li becco. E questo è il record. Questo è il record. Bravo, Molly. data 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 uuuuuh quanti quanti si ma dobbiamo arrivare al boss finale perchè se no è inutile potenziare tutto 5 prendi il 5 il 5 con il 5 e riusciamo a fare il 7 e ma adesso non riusciamo a piovere boom wow vai 4 lì mamma mia che brutto che brutto no ma lo dobbiamo più potenziare perchè vedi da lì è l'1 al 4 quindi guarda no dai basta ma che 4 ti ho detto la terza perchè mi hai potenziato dopo faccio io no no dai dopo io ti potenzi no perchè ti devo spiegare lì è dall'1 al 7 lì è dall'1 al 5 lì è dall'1 al 4 quindi il fatto che sarà fatto sta che chi arriva prima al boss vince ok mi puro della testa un ragno come si no dai signori via signori ok range attenzione mamma mia ma sparo da lontanissimo infatti si hai un range no è un file range incredibile vai 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 nel mezzo nel mezzo che una testa ti da una testa due teste top ok vai vai buono Reby dai ma io voglio quel ragno lazzù forza forza monetine dai dai ragno 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 possiamo fare ragno no ma non l'ho beccato mi è andato via tocca a me sì allora ti faccio vedere vedi qui dall'1 al 4 quindi se noi mettiamo il 4 qui siamo già al massimo siamo al massimo e lì siamo già al massimo quindi quello che dobbiamo fare è arrivare a 5 lì esatto oh dopo dobbiamo riuscire ad arrivare in fondo però eh se no perfetto siamo al massimo siamo al massimo siamo orribili fire rate fire rate fire rate fire rate vediamo quell'altro più 6 ci siamo più 6 ancora ok Reby devi arrivare fino alla fine devi arrivare fino alla fine mi raccomando guardate vai subito su range di là di là a destra di là eh ma non ci arriva già sono un po' lontanino vai 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 il trucco è prendere quando c'è quella cosa delle due teste però anche fire rate è molto importante ecco quella lì guarda quello laggiù quella cosa delle due teste bisogna prenderlo nel mezzo vai 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 più uno ok va bene al massimo due teste range range tutta a sinistra oh mamma vai no si eh ma è inutile prenda tutto lì restiamo qui vediamo vediamo ragazzi siamo troppo lenti serve più rate fire rate c'eravamo quasi tocca a me aspetta aspetta ma qui non ci fa cambiare andiamo subito a battle tanto non possiamo non possiamo fare nulla non possiamo fare nulla ok battaglia forza forza posso giocare dopo? no ma come no? no basta tocca a me avevi iniziato tempo e mi era l'ultima volta che ok danno io qua fire rate assolutamente fire rate si si fire rate stiamo di qua vai 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 poi dopo c'è il danno più 4 resti sulla destra si si rimango qui ragno rabbi ragno fire rate più 7 più 8 più 9 più 10 fire rate buono 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 rimaniamo qui fire rate ancora no 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 ok buono più 2 di danno va benissimo danno forse serve meglio il danno non hai danno però no ho sbagliato qui 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 danno 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 ragazzi attenzione hai anche due teste attenzione guarda stai al centro stai al centro avvenzione attenzione se la possiamo fare si se la possiamo fare ce l'abbiamo wasting bebe siamo arrivati e l'abbia vinto e vediamo no 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 questa cosa va assolutamente fatta attenzione mettila pian piano tipo metti il due cosa succede il quattro no il tre vediamo come cambia Mettiamo il 3 Ah no dal 5 all'8 Dal 5 all'8 Quindi come minimo dobbiamo avere i 5 C'hai un 7 se vuoi Un 5 se già prova a metterlo Ok quei denti orribili Il 7 abbiamo 7 vediamo Con i brufoli 5 5 6 Possiamo mettere un 6 qua No l'8 Aspetta però La l'8 non ce l'abbiamo Quindi io metterei il 7 qui E' l'unica cosa che possiamo fare E faccio l'ultimo No ma possiamo spendere ancora Aspetta Aspetta mettiamo insieme il 4 Così possiamo almeno arrivare all'8 Guardate Moli come scalpita Voglio fare io 6 6 6 Un 8 riesce a farlo Con 6 6 fai 7 e 7 7 Dai la matematica Vediamo 8 Vabbè un'altra zampa Vediamo se riusciamo a fare qualcos'altro Revi posso giocare Dai fammi Fammi li unire a me Aspetta Mi ha 23 mila Dai 6 Voila Già è qualcosa Basta Dai Basta Li unisco io adesso Mamma mia Ci metti 3 ore Guarda come si fa Così 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 È qui Vabbè lì siamo già Vediamo Vai No ma guarda siamo arancioni Siamo arancioni Nuovissimo ragno Bellissimo Bellissimo Vediamo però dopo che bossi sarà Allora il danno sicuramente No non ce la facciamo No non ce la facciamo Il danno non ce la si fa Qua si forse No No nemmeno qua No Meno 1 Meno 1 di danno Però dai più 8 Ok ci siamo Si ma dai ma qua Eh ma per che livelli sono più difficili ovviamente Sono più difficili adesso Stai sul danno a 4 Se no lo prendiamo in negativo Danno a 4 Danno a 3 2 1 0 Ok No via Sì ma Cioè Era tutto altissimo Eh ma perché Siamo ragni troppo forti Siamo ragni troppo forti Siamo ragni troppo forti Allora laggiù Mamma mia Sembra uno scorpione Quel ragno che dobbiamo sbloccare Oh mamma Non è più un ragno Si è convertito Mamma mia Guarda che brutto Però il nostro ragno Abbiamo due teste Che brutto Vabbè Attenzione Non ce la lasciamo La prossima volta Creeremo un ragno a due teste Ragazzi Se volete un altro video di ragni Fatecelo sapere Con un bel mi piace Da noi è tutto Ciao Ciao